Benvenuti alla terza puntata di Speciale Motori, questa è una puntata sempre dedicata alle presentazioni, ma oggi è stata presentata l'unica auto di oggi, che è stata la nuovissima McLaren, la MCL34, di due piloti, Carlo Sainz e Lando Norris. Ma andiamo avanti con la macchina, la macchina è una delle prime auto, ha passato la consegna a Carlo Sainz e Lando Norris, è uscito via Fernando Alonso, diciamo la verità, è una grande auto questa la McLaren. I temi di quest'oggi, parliamo sempre delle presentazioni, parliamo poi della nuova Mercedes, poi parleremo della nuova Red Bull e infine della nuova Racing Point. Quindi della Racing Point e abbiamo soltanto visto un pochino la Librea con il quadrifoglio della Alfa Romeo che non è più sober ma è sempre già molte cose in Svizzera. Parliamo della MCL34 McLaren, praticamente la McLaren è una cosa molto importante, è presentata a monoposto praticamente, è di colore praticamente, ha dietro un pochino l'arancione più chiaro, un pochino più scuro davanti, chiaro un pochino in mezzo, a blu praticamente. E' una macchina molto interessante, anche l'alettone blu e nero, le nuove tute sono per lo sponsor blu, blu sopra e sotto e mezzo sono arancioni le due tute. Qualcosa di interessante diciamo di questa macchina in più perché è molto interessante il nuovo muso che è stato adottato praticamente, sembra una doppia narice questo muso praticamente. Si è visto anche nell'Alfa Romeo Racing, un enorme lavoro praticamente fatto dal team, è stato detto, siamo stati tutti coinvolti, siamo motivati e utili nelle nostre ambizioni di far tornare competitiva alla McLaren, la MCL34 è l'unico modo per far partire questo processo. L'ha detto l'amministratore delegato della McLaren Racing, diciamo, molte cose da invitiare questa McLaren perché, partiamo di alcune novità che ci sono quest'anno. Le novità praticamente sono partiti, come vi abbiamo già detto, dall'alettone, da un'ala anteriore main plane, ondulate simile a quella del 2018. Una cosa molto importante, hanno un musetto, conserva sempre il cazzettino in una piccola punta e poi ha delle sospensioni praticamente con piccoli punti attacco al profilo alle armi. Ancora altre cose, le punch praticamente radianti da Paul United e Renault e quindi seguono un pochino quella che è la Red Bull 18, quindi un pochino prendono sempre spunto dalla Red Bull 2018, qualcosa di interessante possiamo dirlo, lo diciamo. E allora, Carlo Sainz arriva dalla Renault, mentre Lando Norris arriva dalla famosa GP2 neata quest'anno. Parliamo di Lando Norris Chiera, Lando Norris passa i kart, poi passa i kart, poi nel 2015-2014 G-Net Junior Championship, HCC Motorsport, poi nel 2015 Formula MSA con la Carling, Mentre con la Formula 4 EDC IC, la Formula 4 italiana, Formula 4 Outman Tropic, la Formula 4 Outman Tropic con la HHC Motorsport 2016, Euro Cup Formula Renault 2.0 e Formula E Renault 2.0 Neck con la Joseph Kaufman Racing, Formula Toyota con la M2 Competition, Formula 3 Formula 3 Europea nel Gran Premio di Macao con la Carling, nel 2017 con la Formula 3 Europea con la Carling, Formula 2 con la Kampons Racing, in Formula 1 con l'audatore della Formula 1, poi nel 2018 in Formula 1 sempre con la Carling, in Formula 2 con la Carling, in Formula 1 con la McLaren, sempre con l'audatore. Quindi, diciamo qualcosa di interessante, ha fatto molti risultati stradiani, questo 2018 ha arrivato secondo Lando Norris con 259 punti, brevissimo Lando Norris, grande campione, si aggiungono molti con i campioni e la Formula 2, vedremo poi quest'anno come sarà la Formula 2 in generale, perché se sforneano nuovi campioni da Formula 2, anche la Formula 3, vedremo quali sono i campioni e li vedremo, soprattutto nelle gare europee. Andando avanti, adesso parliamo della nuova Mercedes, perché la nuova Mercedes è qualcosa che va, perché la Mercedes praticamente è una Mercedes molto interessante, praticamente non cambia molto, è sempre lo stesso colore, è cambiata che è un po' lo sponsor della Petronas, che ha portato qualche bordatura, un verde chiaro chiaro con un bianco, è un qualcosa di interessante, diciamo, quest'auto. Perché 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 Cambiano soprattutto i radiatori, diciamo che una cosa importante, cambia molto nell'efficienzamento aerodinamico, ma partiamo subito a parlare della nuova Mercedes, la W10, praticamente, cambia, fa un passo alla W09, Pw09, diciamo, che praticamente ha lavorato su ogni componente della macchina, ha lavorato la Mercedes, la Mercedes praticamente vuole andare uno step avanzato, vuole essere sempre di più, diciamo che la Mercedes ha lavorato sempre in tanti ritmi, in grandissime cose, ha lavorato la Mercedes, una cosa interessante, possiamo dire qualcosa di veramente interessante? Lo possiamo anche dire perché, perché poi vi faremo anche, diciamo, ascoltare il sound della Mercedes, andiamo subito ad ascoltare il sound Mercedes, perché vi spieghiamo la macchina, appena sentite un po' il sound Mercedes, abbassiamo un pochino perché è molto, molto romolotto. Sound Mercedes, qui per parlare della Mercedes. Guardate un pochino perché è la questione che non abbiaю laстр regione. Abbiamo sentito il motore della Mercedes Diciamo cambia molto Cambia qualcosa Il muso praticamente Rispetto a quello dello scorso anno È un pochino più stretto Si riduce avvicinandosi alla scocca Nella parte centrale E sempre vuole mantenere Quello che è l'impostazione dello scorso anno Come viene, come è stata disegnata Vuole rimanere quella del 2018 Il muso Però è cambiato qualcosina del muso Poi cambia qualcosina di più Perché praticamente La seconda ala ha 5 profili basici Praticamente il profilo principale È molto piatto ai bordi Nella parte centrale Mentre Vuole anche portare qualche nuovo vortice C'è la J200 Un'architettura La J250 E diciamo molte Moltissime cose Sta portando questa Mercedes Poi passiamo alla All'ala posteriore Perché è praticamente interessante Perché il DRS Quest'anno Fa prendere più scia il DRS Non serve Non l'ala davanti Non fa prendere molte scia L'ala davanti Perché lo fa fare l'ala dietro Quindi l'ala dietro Fa praticamente lavorare molto Moltissimo Di più Diciamo Diciamo Un Qualcosa di più Lo potrebbe fare Quello che Può fare la Mercedes È di Rivoluzionare Quello che è Il grande Lavoro Che sta facendo Perché la Mercedes Lavora moltissimo La Mercedes La Mercedes Lavora moltissimo Perché vuole fare sempre Bella figura Vuole portarti sempre Sempre avanti Da come l'ha fatto Dal 2014 Che era già una macchina Prestazionale Con la prima Era una macchina Quando c'è iniziato L'ibrido È stata una macchina Che è andata Sempre più avanti Una macchina Che si è modernizzata Sempre di più Sono stati primi A portare delle nuove Modern Hanno modernizzato Sempre di più E questa Hanno fatto di più Diciamo È un telaio Praticamente più Sbalzato Sulla parte più alta Quindi più alta Se più alza Hanno portato più alto Il telaio Praticamente Idenza Rispetto alla linea Del telaio Del telaio Dello Diciamo Del telaio La vanity planing È un pochino Più Bassa È un pochino Più alta Quindi il telaio È un poco poco Più basso È leggermente basso Diciamo Poi Se parliamo Dei radiatori Perché noi vogliamo Dire i radiatori I radiatori Sono qualcosa di Magnifico I radiatori I radiatori Praticamente Hanno mantenuto Le forme Quelle che sono Le origini Le origini De la Mercedes Perché Sempre i radiatori Devono Aiutare molto La macchina Diciamo Ha Praticamente Abbassato Lateralmente L'antitrusione Per L'imbocco Della fiancata Diciamo Che piuttosto Ha voluto Fai mettere Cose classiche Aggiungendo Qualcosa di più Diciamo Che I due sopporti Gli specchietti I due sopporti Retrovisori Contribuiscono A definire Questo molto Questo grande Concetto Praticamente Della dinamica Poi parliamo Anche del fondo Perché il fondo È molto interessante All'indietro del fondo Il fondo È una cosa Di importante Per le macchine Perché Il fondo Serva ad aiutare Anche Le prestazioni Della macchina Perché dico questo Perché Il fondo Praticamente Ha un lungo Soffiaggio Parallelo Quindi Quando arriva l'aria Dall'esterno Arriva a metà pancia Quindi se va L'aria tutta Con la pancia Qualcosa Perde un pochino Quello che è la potenza Anche Quando aprile Alettone Arriva l'aria Potrebbe anche Perdere l'ascia Se va oltre Praticamente La metà Della pancia E questa è una cosa Fondamentale Per quanto riguarda La Merced Ma per quanto riguarda Tutto il mondo Nella Mono Nelle monoposte Di formula 1 Una cosa molto importante Non manca Praticamente Una parte Di chiusura Che sembra Un Che sembra Un castello E la parte Dietro Praticamente Di Tray Squirt Nel posteriore Quindi hanno Ridotto l'effetto Del tray Squirt Nel posteriore Poi una cosa Andiamo ancora avanti Con la Mercedes Velocissimi L'airbox Praticamente Rimane sempre Lo stesso E i flussi Alimentazione Sono sempre Stati a Raffreddare Quello che è L'airz Il motore Diciamo C'è sempre La T-wing Praticamente Che arrivano Fino all'ala Posteriore Praticamente Diciamo Hanno Hanno un po' Aiutato Quelle che sono State fatte Recentemente A Maranello Perché hanno Scelto Qualcosa Che era Stato già Fatto Un pochino A Maranello Le sospensioni Posteriori Praticamente Sono sempre Schema Pushroll Come l'hanno Disegnato Pushroll I tecnici Di Berkley Hanno molto Lavorato Per Il surriscaldamento Le gomme Perché se si Surriscaldano Le gomme Diciamo La verità Non Hanno lavorato Di più Di quello Che era L'anno scorso Surriscaldano Molto le gomme La W09 Hanno anche Messo Un'estensione Alla bracket In alto Per ragioni Aero dinamica Perché Perché L'aerodinamica È qualcosa Di fondamentale L'aerodinamica L'aerodinamica Diciamo Hanno Una cosa Molto importante È che La vettura Praticamente Un telaio A causa Un serbatoio Molto più grande Il telaio Si è Ingrandito Perché 5 kg Di carburante Sono a Messe 110 kg Di benzina Contro 105 2018 Quindi 110 kg Di benzina Nel 2019 In tutte quante Le monoposte 105 L'erano Lo scorso anno Quindi Si è aumentato Diciamo Di 5 Kg Per la benzina Una cosa Interessante Parliamo Della Della Posteriore Perché L'ala posteriore E l'ala mobile È un pochino Più alta Lo diciamo Perché La parte dietro Come già abbiamo Detto Di tutti Deve fare Da scia Non può Far più Da scia L'alettone Anteriore L'alettone Posteriore Fa da scia Quindi Prende E va A fare Da scia Qualcosa Di interessante Per Che diciamo Di più Alcune parti Dalli servono Per dare Un po' Di soffiaggi Verticali Nel bordo D'entrata E le frange In coda Vanno In basso La parte Allargata Questa È un pochino Un'analisi Della Diciamo La Red La Red Bull Perché Della Mercedes Adesso Passiamo Alla Red Bull Perché La Red Bull È la RB15 Praticamente Cambia Moltissimo Alla RB15 Il muso Rispetto A quello 2018 È molto Basso Ci sono Praticamente In altre Alti Il muso I pertoni Sono Muso Basso I pertoni Sono Molto Alti Per Indirizzare Meglio L'aria Nella Zanna Diventa Simile a Quello Che è Un flusso Mercedes Ma andiamo In un'analisi Un pochino Più Completa Perché Noi Siamo 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 A portarvi Nelle Analisi Più Complete Domani Domani Ve lo voglio Dire Anticipare Perché domani Non ci sarà Il solito podcast Perché domani Saremo in diretta Di Saremo in direttissima Per la Rispetto Come già abbiamo detto Nel 2014 Praticamente Il nasino Rettangolare Davanti Molto più sporgente Di 4-5 centimetri Che era quello Dello scorso anno Quindi praticamente Molto evidente Il nasino avanti Per dirvi Che le monoposto Stanno cambiando Si sta facendo La rivoluzione Delle monoposto Si sta rivoluzionando Quello che è Il cambiamento Soprattutto Nel campionato Di Formula 1 Perché Si deve Arrivare Praticamente A una Formula 1 Tutta uguale E quest'anno Una cosa Interessante Che voglio dirvi Che tutti quanti Dovranno pesare 80 kg Nella monoposto Se pesano di meno Vengono messe Delle cose Sul sedile Per farli pesare Tutti quanti I piloti All'interno Della pitacola Dovranno pesare 80 kg Cosa mai successa E quindi Vedete come si sta Rivoluzionando Il mondo dei motori Agganciandoci Agganciandoci Proprio Alla Red Bull Che ha aiutato Molto anche La Toro Rosso Diciamo che I cugini I cuginetti La Toro Rosso L'hanno aiutato Moltissimo Diciamo Le sospensioni Anteriori Il push road Ha sempre Due triangoli Due triangoli Che sono sovrapposti E sono vicinissimi Quasi Che si sfiorano Si sfiorano I due Triangoli Praticamente Le sospensioni Diciamo Vogliono Praticamente Aiutare Proprio Le parti Inferiori Per favorire Un buon passaggio Dei flussi Quindi Dell'aria Dell'aria Volevamo far passare Molta aria Qualcosa Di interessante Lo potremmo Anche apprezzare Nei test Che ci saranno A Barcellona Perché La verità È che Un qualcosa Di più Lo vogliono fare Andando avanti Praticamente Si può Osservare Il triangolino Inferiore Praticamente Comprende Il braccio Di sterzo Che rimane Molto basso Nella Come Ha la tradizione Red Bull Ancora un'altra Cosa Importante Manca L'S DUT Nella L'S DUT Che prese Che hanno Misero Ai bordi Del muso E Praticamente Vogliono Praticamente Incurisire Tutti quanti Con La Con Non tanto Per quanto riguarda La porta d'aria Ma per quanto riguarda Lo sfogo E il passaggio Del Un piccolo Passaggio D'aria Della Doppia Nella Parte Dove c'è La W10 Il passaggio È minimo Sulla Red Bull 15 Si scopre Si è scoperto Anche Un flap Quindi Apre un nuovo Sviluppo Vogliono Un carico Lo sviluppo Del carico Perduto Andiamo avanti Praticamente Le pance Della Red Bull Vogliono Mantenere Quella Che è stato Fatto Tutto Quello Che è stato Fatto Nella Red Bull 14 Quindi Red Bull 15 Diverso Diversi Tanti Tanti Nomi L'ultima Vettura È proprio La Alfa Romeo Racing Diciamo Che è cambiato Nome L'Alfa Romeo L'ho già anticipato Ho visto i primi Test a Fiorano Ma ne parleremo Dopo aver parlato Anche da Racing Point Avanti ancora Praticamente Diciamo I radiatori La bocca Dei radiatori È compresa Sempre Fra la cintura E il telaio Hanno Il cono Antitrusione Laterale Abbassa Molto Abbassa Molto Il suo Massimo Il massimo Regolamentare Quindi Quello che è Regolamentare Lo abbassa Poco Poco Di più Poi Diciamo L'ala centrale Vuole aiutare Molto I flussi Verticali Praticamente È un supporto Aiuta I flussi Verticali Fino al fondo Quindi Diciamo Sono molte Le cose Che vengono Fatte Nella Vengono fatte Soprattutto Nella Red Bull Perché Red Bull Cambia Cambia In modo Sostanziale Cambia In grande Modo Poi Praticamente Gli specchietti Hanno due Supporti Da due Parti Integranti Nel Profilo Quindi Cambiano Gli specchietti Una cosa Molto Interessante Sembra La parte Dove La parte Dove C'è la scritta Red Bull Che arriva Poco Prima Dove Parte la gomma Le gomme Posteriori Sembrano Praticamente Un I pannei Il flusso Che c'è Lati Sembra Che si dice Nella zona Coca-Cola Sembrano Dei marciapiedi Quindi cose Interessantissime Ci sono Praticamente Le panci C'è un profilo Curvo Un piccolo Profilo curvo Quindi Poi c'è Un Quindi Sembra Ai bordi C'è un piccolo Binario Diciamo Manca Però una cosa Importante Non Diciamo Non mancano Non manca nulla Manca Sempre quella capacità Di Copiarsi un po' l'uno con l'altro Però una cosa importante È che c'è la scritta Honda Quest'anno Dietro il cofano C'è la scritta Honda Non c'è Non c'è la scritta Honda Perché Perché la Honda È Sia Red Bull Che Toro Rosso Fornisce motori Queste sono due Case Automobilisti Che portano Il proprio nome Portano il nome Motori Honda Quindi qualcosa di interessante Ma ancora Qualche altra cosa Della Red Della Red Bull L'Airbox Praticamente Multistadio Quindi Alimenta Il compressore Serve a raffreddare L'Hers L'Hers È la parte Electric È la parte Diciamo Ibrida Che serve a raffreddarsi Molto Praticamente Diciamo Il radiatore In questi nuovi In questo Siamo ibrido Della Red Bull Praticamente Può aiutare anche L'NG cover Che si estendono Molto Molto Indietro Rendendo La pinna Più stabile E meno Grande Quindi Ad altre Realizzazioni Altre Realizzazioni Vanno A Stabilizzare Molto La pinna E passiamo Alla Racing point Che sta Che La nuova Sembra Una nuova Scuderia La nuova scuderia È una scuderia Interessante Racing point Prende le reddini Della Della Force India Rimane sempre Rosa E blu Molto Interessante Diciamo Che Diciamo Dicono Hanno detto Qualcosa Interessante Ha detto Svanauter Ha spiegato Molto Qualcosa Interessante Dopo Mesi Di Durlavoro Dietro Le quinte È Incredibile Eccitante Interamericana Per presentare La nuova Identità L'obiettivo A lungo Termine È quello Di Portare Il team Al top In Formula 1 La Racing Allora Ha detto Hanno fatto Una domanda Se è ben Se è Terminata Per Figurare Nel Campion Formula Ha detto Stiamo costruendo Mattone Dopo Mattone Il nostro Futuro È Il nostro Futuro E sarà Importante Fare Un bel Passio Nanti Nel 2009 Per iniziare Bene La nuova era Se vogliono puntare Le top 4 In campionato Lui Vogliono lottare Per Essere Le prime 4 In campionato Diciamo Che Loro Vogliono Alzare Un po' Livelli Soprattutto Per Per Arrivare A Mercedes Ferrari Red Bull Anche Altri Renault Altri team Molto storici McLaren William Sass Alfa Romeo E Che La prima Auto Praticamente Diciamo È Qualcosa Di Interessante Rispetto A quelle Che sono State Le vecchie Stagioni C'è stato Il cambio Di proprietà Perché Abbiamo Detto La famiglia Stroll L'ha Preso L'ha Fatto Mettere Anche L'Henz Stroll Quindi Ha preso La famiglia Stroll Questa L'ex L'ex Casa Automobilistica Che era La Force India Allora Diciamo Di una Di una Force India Davvero In grande Perché In ex Force India Davvero In grande Perché La Mi Stroll Per Prendere Vuol dire Che Ci Vogliono Avere Tante Cose Qui Hanno Praticamente Vogliono Espandere Quella Che è La Fabbrica La Fabbrica Dove Hanno Fatto Sempre La Force India Veramente Vogliono Portare Un Lavoro Nel Questo Nuovo Progetto Un progetto Veramente Interessante Allora Noi Ci vogliamo Salutare Ci salutiamo Vi diamo Appuntamento A domani Per Quanto Riguarda La Ferrari Domani Mattina Saremo In In Diretta Perché Parleremo Della Della Nuova Ferrari Praticamente La Ferrari Adesso Ascoltare Il Sound Ferrari Daniele Conno Vi saluta Vi appuntamento A domani In diretta Per la Presentazione Della Ferrari Quindi Saremo Insieme A scoprire La Nuno Ferrari Sempre In diretta In diretta E noi Adesso Ci salutiamo Domani In diretta E facciamo Sentire Prima Di Concludere Il Podcast Il Motore Della Ferrari